3, 2, 1, bello a tutti ragazzi, io sono il Solina Santa Fox e siamo tornati su State of the Kai 2 come vi ho detto volevo staccare un po' da Minecraft e ho detto perché non tornare in State of the Kai oggi mi sono reso conto che l'ultima volta che sono entrato è stato oggi no, era stato nel 2022, ve la assicuro, giugno del 2022, quindi non voglio continuare la partita voglio farne una nuova elimina, elimina, non mi interessa, non voglio più niente ok, oh, tutto bello pulito perfetto ragazzi, cominciamo una nuova partita, rigioca il tutorial no, la faccio ignorante, vado a saltare il tutorial come la giochiamo? standard? una sfida equa? sì dai, perché facciamola equa, va bene, ci piace, accettiamo, andiamo avanti con una sfida equa allora, la valle l'abbiamo fatta slot supersite vuoto, scegli i supersiti per la tua nuova comunità ok, chi prendiamo? allora, vediamo un pochino perché allora, qui avevamo Janelle che aveva l'abilità di acume e tiro scienze politiche, vabbè, ste robe margaret, però guarda, preparazione atletica, acume, combattimento e elettrotecnica bella e elevata mmm sapete che io partirei con margaret? ma direi proprio di sì eh oddio, avrei anche potuto cominciare la comunità da zero, eh quindi prendermi vari personaggi in giro ma dato che abbiamo qualche piccolo aiuto dato che lo stiamo ricominciando dopo due anni va bene non so se sarà una serie diciamo che la chiamerò la serie di State of Decay 2024 ma sarà una serie un pochettino così giusto per recuperare un po' di tempo la Minecraft mentre sto cercando di sistemare ancora quel caos di magazzino e siamo a secco di nuovo, va bene ah, chi tocca andare a cercare carburante? ma voglia che tocca a me? ecco oh cavolo, mi ricordo la zona ok ammetto che sembra meglio avere due città dove siamo qua ok, va bene ciccio possiamo saltarla questa, per favore la possiamo saltare tanto non stanno più chiacchierando non so, sono spariti i doppiatori ok sì, 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 questo me lo ricordo sì, posso eliminare ok adesso voglio solo capire ok con questo vediamo la mappa comunità al momento occupato, va bene base, difficoltà ok, base dov'è la nostra base? io potrei aspettare ma che cosa? non fatemi cagare addosso così che venite di corsa ok, dai perché devo parlarci? vediamo un po' se ci parlo cosa come si attenziona allora, gioco non mi prendere in giro vorrei capire qual è il tastino per parlare ok io vorrei parlare no, no, no non con te con quell'altra Janelle, ecco dobbiamo trovarci una nuova casa eh e mondo ce la troviamo iniziamo a muoverci allora punto numero uno dobbiamo trovarci una nuova casa signori c'è un modo per trovare la mappa sì, eccola l'avevo trovato prima ok qui abbiamo una casetta lì abbiamo delle orde che dormono qui dovremmo scappare allora io direi di stabilirci qua per il momento dai destinazione impostata vorrei capire solo dov'è ok io sto guardando dritta verso la macchina quindi dovremmo andare di là c'è un modo per correre ciccione ok ho capito anche questo salta dalla spallata questa braccia questo mira ok va bene signori 270 metri per arrivare a casa no la nuova casetta rivendichiamo la nuova casa prima tappa di oggi dai signori sono ancora in via di sperimentazione sto ancora cercando di capire bene il gioco molto carino è tutto dai però adesso ce ne andiamo subito alla nuova casa ok pensavo sia presa invece no non ci sono altri zombie dovrebbe essere questa la casetta scusatemi apri un attimo si si è questa allora già vedo un magazzino bello grosso perfetto ok territorio infetto magnifico ok li ho visti ma può essere che io abbia saltato la zona scusatemi si ho saltato la zona fantastico avevo sbagliato strada va bene quello è un terreno infetto se vado là e non ho neanche munizioni nella mia arma siamo proprio ringuaiati giusto di qua dai allora loro ce la fanno a starmi dietro alla grande ok vediamo questa che cosa ci da un capanno normale va bene non ci dice che è infetto altro ma eviterei ok signori siamo arrivati siamo arrivati sentite però non c'è nessuno qua ce n'è uno solo proviamo una fight proviamola dai vediamo un po' come ce la caviamo no no picchiatelo orco cane no vabbè tranquilla ma quanto sei nervosa ciccia c'ha niente da luttare no allora presi singolarmente noi siamo delle bestie quindi andiamoci a prendere questo è brutto però è brutto lo vedo in posa un po' plastica o mi sbaglio non mi morde ok niente li abbiamo solo fatto saltare la testa chi è porco cane no no via 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 no gli zombie no gli zombie no allora quello aveva gli occhi colorati lo vedi lo vedi lo vedi c'ha gli occhi illuminati quello quando dicono che gli brillano gli occhi ecco avete capito andiamo dentro e questi da dove arrivano ok dai cicci siamo in tanti e siamo belli vorrei chiudere sapete c'è il rischio che entri qualcuno credo no allora dobbiamo ripulire la zona dai niente male vabbè io devo ancora prendere un po' la mira però tranquilli ragazzi eh ok c'è gente dentro cercate di non romperci le porte eh di qua mi sembra che non ci sia più nessuno fantastico fantastico c'era un modo per accendere una torcia oh siamo troppo cattivi tutti fuori andiamola a gonfiare di botte ma che fai mi spingi ok abbiamo portato su pure il combattimento al massimo top ok dobbiamo mettere al sicuro la zona dai cicci ce la possiamo fare penso che sia tutto fatto aree per lustrate 4 di 6 5 di 6 cicci che succede aprite la porta in wireless ma siete dei mostri dovrei uscire pure qua fuori 6 di 6 no allora c'è una zona sotto che non ho guardato allora ripetiamo qua ci siamo stati e non c'è nulla qui non c'è nulla qui non c'è nulla ci manca un'aria da guardare non so quale sia se devo uscire fuori o forse è il garage madonna raga mi ha fatto venire un infarto non si viene così in faccia alla gente pessima ok allora quest'area non è dovremmo andare qua credo eh salto è una finta sto ancora imparando i tasti area no questa non me la fa aprire si adesso me la fa aprire guarda eh ci troviamo dentro il mondo il mondo no mollami signori una mano bravissimi team allora controlliamo i contenitori dai abbiamo lasciato un po' tutto anche agli altri va benissimo questo sito può essere occupato ma io non voglio occupare questo scusate ma io voglio occupare di qua ho chiuso ma vedi che li ho chiusi fuori allora dobbiamo trovare dove la lanterna dovrebbe essere al piano superiore se non mi sbaglio per occupare questo avamposto e così siamo a posto abbiamo preso casa spegni la torcia grazie dovrebbe essere questa luogo non sicuro ma cos'è che mi manca da controllare non capisco qua sotto mi sembra di aver girato tutto o c'è una porta che non ho visto ah ecco infatti ok oh signori io non la vedevo sta stanza non so voi ma io non la vedevo ok possiamo tornare su e finalmente prendere il dominio della nostra prima base occupa il trasloco comporta lo smantellamento delle strutture e il rimborso delle risorse di costruzione va bene portiamoci tutto qua signori come siamo alla grande? oh alla grande fantastico missione compiuta ci sono anche i nostri veicoli dietro perfetto ok quindi abbiamo il parcheggio esegui uno scambio con Nick grazie deposita qui i materiali quindi abbiamo qua i nostri materiali depositati fantastico signori io direi che siamo a posto ma basta parlare voi state zitti esegui uno scambio con Nick costruisci una nuova struttura per migliorare la tua base vediamo un po' parla con scambia ok io cosa vorrei munizioni Nick mi vendi delle munizioni tutti gli oggetti io vorrei questo quanti ne abbiamo 4000 va bene voglio le munizioni oddio ho presa troppa roba cosa ho preso va bene parla con Nick scopri di più basta te ne vuoi andare Nick e il nostro personaggio lo addorme seleziona uno spazio libero per costruire un laboratorio o un'infermeria dove è dove è oddio raga poi sto gioco mi prende veramente io ci divento pazzo ma ho eseguito lo scambio con Nick ma gli devo dare qualcosa di mio allora Nick senti ti do questi ok siamo a posto signori io lo faccio fuori a Nick poi non me ne vogliate allora qua fuori possiamo costruire qualcosa costruisci struttura cos'è che dovevamo costruire una struttura per ok per upgradeare la mia base cosa facciamo salute e sonno costruisci letti all'aperto cura la piaga del sangue curare la piaga del sangue sarebbe tanta roba prepararci subito per curare la piaga del sangue ma io adesso partirei ok in frattempo qua pulisci i detriti si mettiamola qua una zona per pulire la piaga del sangue ce la facciamo ce la facciamo alla grande missione compiuta siamo contenti siamo contentissimi ciao ciccia tu cosa vuoi Janelle lasciami stare va bene signori quando andremo avanti se no per ore con questo gioco fatemi sapere se vi piace la prossima volta proveremo a fare 3-4 missioni o quante più ce ne riescono nel frattempo io vi saluto con questo è tutto alla prossima